Salve a tutti ragazzi, bentornati su... Madonna... No, no, su... Madonna... Su Qui 2, su Server 2, con uno dei giochi più divertenti del mondo! Al momento, al momento siamo in Egitto, in Egitto, credo. Io credo che siamo in Medio Oriente, quantomeno, però non so esattamente dove, perché... Io ho veramente voglia di romperlo, questo gioco, e ucciderò tutti quelli che lo compreranno, lo andrò a casa loro... La cosa bella è che Sandro ha una copia fisica, quindi potremmo romperlo, in realtà. Glielo rompiamo a... sfregge, proprio. No, perché poi ci tocca ricomprarlo, e io già lo devo comprare per me, ed è una... Tu non lo devi comprare per te, io te lo vieto. Io ti vieto di comprare questo gioco. Perché siamo di nuovo con la K47 che spara di merda? Non lo so, e non so neanche perché spara di merda in questo gioco la K. Perfetto, perfetto. Puoi aspettare 5 secondi dopo il gioco del depensionato. Sì, sì, perché ti dà tutto il tempo del mondo per prendere la mira con calma. Ma che bella... È stato un bel headshot. Comunque, veramente... Oh, oh, ma perché siamo a morire? Perché non ti ripari, perché non ti ripari, cazzo? Dai, fa ricarica, fa ricarica. È comparso dal nulla. Questa volta hanno gli occhiali nemici. Proprio perché hanno gli occhiali, vuoi dire? Ci vedono meglio adesso. Guardate... No, perché sono gli stessi ma hanno gli occhiali, vuoi dire? Visto che... Madonna, fagli un headshot. Fagli un headshot tra quel po'. Oh, e porca matosca! Che brutta... Brutta? Non è per tutti questa frase, eh. Non è per tutti, è una frase... Brutta... Brutta... No, cazzo! Ho provato a sparare, ma... Ha saltato in aria anche il granatiero. Eh, direi che è ora di fare... Ah, così, random. Abbiamo sprecato una furia. È la tua furia, però. Dio, non è la tua... Gli stavo tirando di tutto dietro. Colpo la testa. Ricarica, animati. Via di massimo. È comparso, è comparso. Attenzione perché compaiono. Colpo la testa, eh. Io, vedete che io sono... Sono iperpreciso. Grazie al cazzo c'è il mouse, io c'ho sto coso che mira per i cazzi suoi. Ma perché c'è? Perché lui ha rango a paura di un elicottero quando ne ha battuto uno prima? Allora, mi sembra di aver già elogiato il sistema di controllo che ha con il Gamepad Titan. Ma donna, ammazzo tutti! Nooo, ho sbagliato! Spara, spara. Donna, stavo ricaricando. Mo se mi fa ricaricare di nuovo... Che poi pensano? Gli sviluppatori sono andata. Ho fatto un bel gioco. Eh, ci stanno... Guarda, ho dovuto ricaricare di nuovo! Io l'avevo già caricato! Che schifo! Colpo alla testa, colpo... Io... Colpo alla testa! Io non ho... Madonna! Io voglio riposare per due settimane dopo aver... Muori! A sto gioco, proprio. L'hai tirata complimenti a cazzo, proprio. Però ne tiro un'altra là, la tiro con più precisione. Niente, te l'ho ucciso, hai spostato i cadavri. Prendilo, madonna! Bella! Ha fatto saltare la granata, queste sono azioni degne di nota. Però devo dire che questa è la parte forse più divertente. E probabilmente perché ci stiamo avvicinando alla fine. Ma io credo che la parte più divertente saranno i titoli di coda, eh. In questo gioco, perché... Sparagli tu, ma che io lo sto ricaricando. Niente. Colpo alla... Madonna! Vabbè, ma se lo meritavano, cioè... Se lo meritavano, ragazzi, con tutto l'amore, proprio. E sai, come in Cod, quando tu stai sparando a un nemico che sta sulla tua linea di tiro, uno ti corre davanti e la colpa è tua, capito? Oh, oh, spara, spara, devi prendere la testa che dobbiamo... Madonna, 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 ce n'è uno dietro... Sparagli la testa, sparagli la testa. Ma non è facile sparare la testa? E soprattutto se fa così... Soprattutto se fa così... Soprattutto se fa così... Soprattutto se fa così... Io intanto sto sparando alla testa, come puoi... Aspetta, buttiamo una granata, buttiamo una... Allora, ho già buttato tutte le granate. Ma anche le mie... Guarda quello là in fondo. Bella! No, grazie per aver alzato, soprattutto quando ricarico. Male. Perché... Questo è l'unico gioco... Occhio che ce n'è uno lì che... Era quello... Era quello che guardava meglio, come... Madonna, ti sparo tutto, proprio. Ma secondo te mi dà, madonna, che odio, che odio... Tutte le altre in ricarico fa... Ah, forse ho capito, dobbiamo arrivare a prendere la mitraglietta, Ah, tu dici... Ah, io l'avevo presa come una sequenza spaccacoglioni, come tutte le altre. Invece ha un senso, secondo te. Questo è l'unico gioco che, quando ricarico, anche se hai più colpi, te ne mette di meno. A sfregio, no? C'è su... Ah, perfetto. Ok, ricordo, va cazzo. Devo, devo... Ma perché? Ahahahahahahahah Porca puttana, ho fatto una... Ahahahah Le cose epiche dietro alle rocce. Ah, fanculo. Bella. Allora, abbiamo una furia, direi di usarla adesso. Ahahahahahah Oh, ma non serve a un cazzo la furia. Non serve a niente, inceppata. Da 120 a 30, guarda. Da 120 colpi che avevi, a 30. Madonna, che schifo. Perché quando si inceppa... Attento che passano gli sparbieri qua. Sì, ma non può... Madonna, madonna, ragazzi. Io te col... Facciamo l'errore di sparare, sempre gli stessi. Allora, io guardo... Che ne uno l'andiego, un figlio di puttana. Affanculo. Nooo. Tu spari... Spreghi le granate così. Io spiego le furie, allora. Ahahahah Dai, siamo quasi arrivati. Ah, cazzo, qua ci voleva la furia. Bravo, Nicola. Sprega la cazzo la ricarica. Sì. Colpo alla testa. Occhio che devi buttare la granata. Mo' devi buttare la granata. Ma mi sa che l'abbiamo finita. C'è un problema adesso. Perché come ci rialziamo, quello ci sei. Vai. Madonna, quando è brutta sta cosa. Aspetta, aspetta. Mo' che se ne va il punto esclamativo. Non se ne va, credo. Sì, sì, se ne va. Aspetta, fammi le carica. Le carica anche tu. Ci sono altri. Facciamo esplodere questo fa. Magari succede qualcosa. Non succede niente. Sì, è andato a rally. Però è partito un rally. Madonna. Vai, vai. Ce la dobbiamo fa. Dobbiamo farlo per gli iscritti. Dobbiamo farlo... Vai. È morto. Vaffanculo. Ma farlo per la libertà. Aspetta, aspetta. No, se è inceppata. Se è inceppata, giustamente ne avevo 87 e ora ce ne ho 31. Porca madosca, porca. Alzati, alzati, che là sopra c'è... Madonna. È ingiocabile. Ragazzi, è ingiocabile. Figlio, ci sono i pali di titanio laddietro. Ovviamente io stavo ricaricando. Finalmente abbiamo raggiunto la mitragliatrice fissa. Abbiamo... Questa è potente, sta mitragliatrice. Adesso ovviamente ci saranno... Batti gli elicotteri. Dove sono? Oh, donna! Oh, Dio, che... Che fastidio, guarda, ragazzi. Che fastidio. Non ci ziccherò mai! Ma... Ma non ha senso sta sequenza. Ma si muove da sola. Oh, oh, oh! Senta, spara solo tu, perché se no non ci capiamo. Ma spara, tu mantieni premuto. Tu sei il primo, tu devi... Dio, Dio mio, perdonali. Dimmi che un rottame lo uccide. Basta. Madonna! Ma è finito. Ma tu dici che l'abbiamo fatti dieci minuti, più o meno. Io non lo so. Adesso sono scomparsi i tasti. Abilità, niente, non mi voglio sbloccare l'altro. Vabbè, ma abbiamo fatto cagare, è normale. Io voglio il più 25 dei colpi, però, vaffanculo. Va bene. No, questa è la velocità. E questo che è? Senti, vetti la furia. No, non voglio la furia un cazzo. È utilissima la furia, non serve un... Oh, vai. Potremmo scegliere un'arma? No, tipo, sì. Oh, via. Iniziamo questa cazzo di cosa. Che non so in realtà quanti minuti stiamo facendo. Beh, allora facciamo una cosa. Fermiamoci qui. Eh, iniziamo alla prossima, ragazzi. Allora. Allora.